Ciao, sono Luca Rossettini. Ciao, sono Renato Panesi. Io ho ottenuto un dottorato di ricerca in propulsione avanzata per lo spazio al Politecnico di Milano. Io invece ho un dottorato in ingegneria aerospaziale ottenuto all'Università di Pisa. Nel 2009 e 2010 sono atterrato in California grazie a una borsa Full Break Best e ho conosciuto Renato tra i banchi della Santa Clara University. Abbiamo entrambi frequentato il corso in Technology Entrepreneurship nell'ambito della terza edizione del programma Best, anni 2009-2010. Io e Renato, in Silicon Valley, California, oltre a condividere la tavola da surf, abbiamo deciso di condividere un'azienda che cambierà tutto il settore spaziale. E una volta rientrati in Italia nel 2010, abbiamo ottenuto investimenti venture capital e fondato la nostra impresa nel 2011. The Orbit produce dispositivi propulsivi da installare sui satelliti prima del lancio, in grado di rimuoverli a fine vita in modo rapido, controllato e sicuro, garantendo quindi un accesso pulito e profittevole allo spazio. The Orbit è la prima risposta concreta al problema dei detriti spaziali, che sono il vero collo di bottiglia per lo sviluppo dello settore spaziale e commerciale. The Orbit introduce principi di sostenibilità strategica nell'ambiente spaziale. L'azienda ha la sua sede legale a Milano, la sua sede operativa a Firenze e la sede produttiva a Como. Dal 2012 di orbite anche negli Stati Uniti, con una sussidiaria in California. Nel 2011 abbiamo sviluppato il progetto, nel 2012 testato a terra il primo dimostratore, nel 2013 qualificato per il lancio in orbita i sistemi principali della nostra tecnologia secondo le normative industriali e a novembre 2013 il primo volo del prototipo nello spazio. Senza Best tutto questo non sarebbe. Sottoponi la tua idea per realizzare come